Dopo aver sentito Johnny, Carlo Fiorani, sei tu che hai, come dire, introdotto questo grande annuncio. Grande perché, insomma, è stata dura confermarlo, ragazzi. Allora, sinceramente è stata meno dura di quello che forse si è percepito all'esterno, perché Jonathan fin dall'inizio aveva sempre manifestato la volontà di rimanere con Honda, e lui, come sapete, è un pilota Honda, ha iniziato con la Rookie Cup in Inghilterra con moto Honda, ha sempre corso poi nel campionato inglese con la Honda Inghilterra, con Super Sport con la Honda Tencate e Super Bike. Per cui lui è un pilota, come dire, fedele al marchio Honda. Però gli hanno fatto un bel filo gli altri, mi riferivo più alla concorrenza, alla difficoltà di superare la concorrenza. Allora, la difficoltà è stata appunto quella di comunque di reggere bene agli assalti della concorrenza, perché essendo Jonathan uno dei maggiori talenti in questo momento della Super Bike, che secondo me è il pilota adatto anche alla MotoGP, è stato richiesto e corteggiato da quasi tutti. Poi è stato anche in un certo senso divertente, perché avendo rapporti di amicizia con altri colleghi, in un modo o nell'altro venivo a sapere comunque dei contatti e delle offerte che venivano fatte. Questo ho ancora apprezzato maggiormente Jonathan per la sua schiettezza e poi per la rapidità con cui siamo riusciti a concludere il nostro accordo, dove Jonathan naturalmente ha chiesto soprattutto delle conferme da un punto di vista tecnico, con un impegno maggiore da parte del team e da parte di Honda per avere per l'anno prossimo un pacchetto motocicletta più competitivo, cosa che sicuramente faremo, partendo per cui dalle sospensioni, motore, gestione elettronica, che grazie al nuovo regolamento ci permette di utilizzare il ride-by-wire e questo ci consentirà di aumentare sia le prestazioni della moto che la sicurezza. Per cui siamo fiduciosi, anche il nostro pilota lo è, poiché ha firmato in tempi così brevi. È la prima volta forse che riusciamo a definire la stagione successiva ai primi di settembre. Avete confermato il pilota, avete confermato il team, come stavi dicendo adesso, e in questo periodo sarebbe importante confermare anche gli sponsor. Allora, abbiamo confermato il budget, che forse è più importante, nel senso che abbiamo confermato il nostro budget come Honda e adesso iniziamo a discutere i dettagli con il nostro sponsor, per cui inizieremo la conversazione, la discussione con lo sponsor attuale, che è la Castrol, e inizieremo a definire i dettagli. Per cui è chiaro che ancora non siamo entrati nel dettaglio, siamo sicuri che loro rimarranno insieme con noi, perché ormai è un rapporto che parte da 1959, però non sappiamo ancora se come main sponsor o comunque come sponsor collaterale. E per quanto riguarda il secondo pilota? Allora, per quanto riguarda il secondo pilota, avevamo un gentleman agreement che fino a oggi, cioè fino a che non avessimo firmato con Jonathan, non avremmo contattato altri piloti, cosa che abbiamo rispettato. Per cui da oggi pomeriggio in poi ci sentiamo liberi di contattare il secondo pilota. Su richiesta di Jonathan vuole un pilota, un compagno di squadra molto veloce, per cui cercheremo di accontentarlo.